Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina. Eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Ben ritrovati con Ilcomizio.it, parliamo di calcio. Lo facciamo con un giornalista sportivo di lunga esperienza in tv e in radio. Riccardo Oeste, grazie per essere con noi. Sì Fabio, di lunga esperienza teorica, non pratica e si vede anche da qualche chilo di troppo. Diciamo che sono campione del mondo di sollevamento della forchetta. Campione olimpico anzi addirittura. Vabbè, sono sempre di calcio e le parlo volentieri. Non l'ho mai fatto, non l'ho mai praticato nel calcio se non a livello amatoriale da piccolo, all'oratorio o in qualche pineta. Però ne sai. C'è sempre qualcosa da dire. Sai che il calcio è l'argomento principale, il pane degli italiani, non solo degli italiani. In Italia si parla molto di calcio e questo è il periodo tra europei, mercato, il prossimo campionato, insomma, di chiacchiere ce ne sono molte. Senza dubbio, quello degli europei e della passione per gli azzurri è il tema nazionale del momento. Sta andando bene, no? Sì, sì, il merito principale di Mancini è stato quello di fare rinnamorare i tifosi azzurri della nazionale italiana e ha trasformato la nazionale in un club e dunque c'è molto senso di appartenenza da parte di tutti gli italiani come se veramente tenessero al club, al club Italia. E dal punto di vista vice tecnico, la nazionale, fino ad ora è quella che ha messo in mostra il gioco migliore, con più continuità, mette in mostra sicuramente anche dei giocatori di valore assoluto e insomma se pensiamo soltanto dove eravamo due anni e mezzo fa, davvero c'è da sottolineare il grandissimo lavoro che ha fatto Roberto Mancini. Quindi tu ci vedi un lavoro psicologico magari e d'immagine in qualche modo per rilanciare questa identità, della nazionale. Lui è un allenatore come era da giocatore, cioè lui ama il bel calcio, ama i grandi giocatori, ama i giocatori di classi, di qualità e dunque vuole quel tipo di giocatore nel campo, dunque non si è contenta di vincere, vuole vincere giocando bene e sicuramente questa operazione di immagini, tra virgolette, ha fatto bene anche all'Italia perché abbiamo il risultato di una nazionale che vince giocando bene ed è quello che vuole soprattutto Roberto Mancini, è un'esteta del calcio lui. Ecco, prima di parlare del fatto tecnico e tattico della nazionale di Mancini, a me sembra cambiato anche lui, forse andando in là con l'età rispetto, io lo ricordo ad esempio sulla panchina dell'Inter, era sempre molto teso, molto nervoso, molto polemico. Se vogliamo anche un po' capriccioso, molti detti a lavori l'ha sempre definito un po' come era la calciatore, un po' insomma, a Milano si diceva… Ecco, un po' la prima donna, ecco. In realtà si è molto morbidito da questo punto di vista, è un giocatore che ha sempre avuto il coraggio di andare ai suoi presidenti e chiedere questo o quell'altro giocatore. In nazionale questo non ce ne bisogna perché può prendere il meglio del campionato, tra l'altro l'ha dimostrato nelle convocazioni, è andato proprio a prendere i migliori per ogni ruolo, al di là del club di appartenenza. Ha preso 3 giocatori del Sassuolo e 4 con Raspadori e li ha fatti diventare i titolari, senza problema insomma, mentre negli anni passati con gli altri cittadini erano molto più vituati ai blocchi delle grandi squadre, del blocco Juventus che ha vinto, il blocco Milan, il blocco Inter, quasi sempre il blocco Juventus, invece no, doveva prendere i giocatori del Sassuolo perché in quel ruolo è il migliore del campionato. E naturalmente della Taranta anche come… O dell'Atalanta appunto, esatto, l'Atalanta ha pescato addirittura giocatori interessanti in prospettiva, basti pensare a Pessina che non era titolare nell'Atalanta, è stato scartato addirittura dal Milan eppure lui è andato a prenderlo, l'ha convocato, è stato proprio ripescato all'ultimo momento perché si è fatto male i sensi, però sta dando delle grandi risposte. Ecco, come può cambiare anche la qualità di un gruppo di giocatori dopo i fallimenti degli anni scorsi, cioè il calcio italiano è cresciuto e migliorato grazie ad alcune squadre che hanno osato lanciare… Il calcio italiano a livello di club non è migliorato perché purtroppo lo dicono le coppie europee, non vinciamo una Champions League da 12 anni, l'ultima è stata l'Inter, che è una squadra di soli stranieri, oltretutto a quei tempi, più o meno quasi tutti stranieri, e a livello di club non riusciamo a dare più di tanto, la Juventus viene eliminata sistematicamente agli ottavi e quarti, l'Inter non passa i gironi, il Milan era sette anni che non andava in Champions League, dunque a livello di club no, ma a livello di nazionale forse questo spirito che Mancini è riuscito a dare riusciamo davvero a fare la differenza, o forse anche perché non abbiamo giocatori che sono obiettivi a giocare a livelli europei, a livelli europei altissimi, perché quelli della nazionale, Locatelli non è esperienza europea, Rasplodori non è esperienza europea, Berardi non è esperienza europea, Bastoni, quasi tutti i giocatori nazionali, chi ha giocato le coppie europee? Soltanto Verratti, Chiellini, Bonucci, e forse Giorginio, però una minima parte rispetto al gruppo, al 25 del gruppo, a livello di nazionale, mentre qualche anno fa era un po' il contrario, non riusciamo a, a livello di club, lo riusciamo invece a farci rispettare, a livello di club non riusciamo, c'è da dire poi che molti giocatori che giocano in nazionale spesso non sono titolari nelle squadre di club. Sì, è vero questa cosa, anche se adesso per dire un Raspadori che fino all'anno scorso non lo conosceva nessuno. Non è titolare nell'Atalanta, Raspadori ha preso il posto nell'undigione di ritorno, mi sembra titolare, però non era partito tra i primi, ma anche altre scelte, spesso gli stranieri portano via spazio, stranieri voglio dire che magari non a titolo portano via lo spazio di italiani. Ecco, a proposito, cosa ne pensi dei giocatori cosiddetti Mario Riundi, non è una cosa di oggi e lo sappiamo, o naturalizzare. Esatto, la storia dei giocatori con l'Italia non è mai stata fortunata, ne aveva avuto qualcuno, però poi non trascendentali. Qui abbiamo un naturalizzato che è Giorginio, insomma un brasiliano, però ha origini italiane e sta facendo bene, dunque perché no? Io sono favorevole al fatto che se ci sia un giocatore che ha il titolo per giocare in nazionale italiana, anche se non è nato in Italia o ha parenti italiani, possa giocare con la nazionale azzurra. Insomma, attendiamo di vedere come andrà questa partita con… Sì, poi questa è davvero la nazionale, la nazionale, mentre negli anni passati era la nazionale di Ballotelli, la nazionale di Del Piero, la nazionale di Baggio, la nazionale di Totti. È vero. Questa invece è la nazionale di tanti buoni, ottimi giocatori e qui è stato il merito soprattutto di… Sarà la nazionale di Mancini, nel bene… Solitamente, e io penso che su questa definizione lui faccia molto affidamento perché insomma è anche abbastanza, diciamo, orgoglioso di quello che fa Mancini, non è un tipo proprio che passa inosservato. Sì, certo, è uno che ha una buona autostima. Esatto, abbastanza. Bene, grazie Riccardo, ti ringrazio per questo tuo intervento. Avremo con noi ancora Riccardo Este per parlare sempre di calcio, magari parlando del campionato italiano che oggi è fermo, però certamente il mercato sta entrando nel vivo e quindi si pensa a quella che sarà la prossima stagione. Arrivederci. Il Comizio.it La voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti dei Il Comizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina. Eventi e stili di vita, società e professioni. Il Comizio.it La voce di tutti, la tua voce.